Benvenuti a TG7 Basilicata Notizie. Il Comando Legione Carabinieri Basilicata, nell'ambito di una più articolata manovra del Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden, sta svolgendo un'intensa attività di controllo e verifica sul reddito di cittadinanza. Tramite verifiche incrociate che hanno interessato 6.107 nuclei familiari per un totale di 11.800 151 persone, sono state accertate 399 distinte violazioni alla normativa di riferimento commesse da altrettanti soggetti, di cui 388, 217 uomini e 171 donne sono stati deferiti in stato di libertà dall'autorità giudiziaria. I Carabinieri del Comando di Potenza hanno deferito all'autorità giudiziaria 197 persone, 94 italiani e 103 stranieri. I Carabinieri del Comando di Matera hanno deferito all'autorità giudiziaria 191, 83 italiani e 108 stranieri. Nel complesso la somma indebitamente percepita dai non aventi diritto ammonta a euro 2.346.673. Numerosi sono stati casi in cui è stata accertata essere state prodotte dichiarazioni false in ordine ai patrimoni immobiliari ed immobiliari, posseduti e in particolare sono emerse molteplici omissioni nelle comunicazioni obbligatorie di acquisto di autovetture di grande cilindrata. Non sono mancati i casi in cui i beneficiari sono stati sorpresi a esercitare stabilmente attività lavorative in nero, omettendo ogni comunicazione al riguardo, proprio al fine di non interrompere l'erogazione del beneficio non più spettante. Anche la residenza in Italia da più di 10 anni in numerosi casi è stata falsamente attestata da cittadini extracomunitari, che in alcune circostanze hanno anche prodotto false dichiarazioni circa la presenza in Italia di familiari di fatto residenti stabilmente all'estero. Passiamo ad altra notizia. Domani 4 novembre alle ore 11 si svolgerà in piazza Vittorio Veneto a Matera la cerimonia per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dalla Prefettura e dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera. Presenzeranno alla cerimonia il prefetto di Matera, dottor Rinaldo Argentieri, le autorità civili, militari e religiose. Ci sarà la deposizione di due corone, dapprima al Cippo di Via Lucana e successivamente al Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto. Al fine di garantire l'interazione con la cittadinanza e le scolaresche, il Comando Provinciale Carabinieri di Matera sarà aperto al pubblico. I visitatori potranno osservare da vicino i veicoli e le apparecchiature in dotazione all'arma, nonché visionare filmati istituzionali. Inoltre, allo scopo di favorire la partecipazione alla popolazione e alle scolaresche, il Museo Storico dei Cimeli di Guerra, allestito presso l'Associazione Invalidi e Mutilati di Guerra, in Via Francesco d'Alessio 52. Dopo Venezia, la nostra Basilicata Matera per i Sensi è approdata a Palermo. Dal 29 ottobre al 7 novembre 2021, infatti, è protagonista dello spazio espositivo dell'ex convento della Mangione, uno dei più antichi complessi monumentali della città siciliana. La mostra presenta oggetti sensibili tratti dalla produzione di alcuni dei protagonisti di Fucina Madre, una sezione di 13 progetti di artigiani e designer lucani scelti dalle curatrici di Venice Design Week iDesign. Passiamo al tempo. Il tempo di domani, giovedì 4 novembre, rasseneramenti su tutta la regione, temperatura senza particolari variazioni. E con questo che vi salutiamo e vi diamo appuntamento.